In diretta da San Pietroburgo, di la banda Lossovieticos. Allora, possiamo imparare il russo? In diretta da... No, si è stato fatto un nodo. In diretta live, canta per noi. Canzone? Traduzione? Canta per noi, Kathleen Maggie. Cosa canta? Non lo so, intraducibile. Una casa vicino al mare. Oh, una casa vicino al mare. In esterno, come si dice, una casa vicino al mare? Chiarissimo, no? Andiamo. Allora, va. Allora, va. Vittoria. Allora, va. Allora, va. Allora, va. Allora, va. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.